San Cataldo si appresta a celebrare la giornata internazionale delle donne, con due importanti eventi organizzati dall'amministrazione comunale. Il primo dei due appuntamenti dal titolo Donna che impresa si terrà mercoledì mattina alle ore 9.30 presso l'auditorium saporito di San Cataldo. Un momento di incontro e confronto tra le donne imprenditrici e cittadini san gataldesi. In serata, presso l'oratorio salesiano Don Posco, si terrà la nave delle spose, uno spettacolo per voce, pianoforte e pupi di e con Lucia Sardo, con Gioacchino Cappelli e al piano Dino Rubino, che tratta il tema delle ragazze siciliane che venivano sposate per procura e partivano per l'America molto spesso senza nemmeno conoscere il marito. Vogliamo domani celebrare adeguatamente la giornata della donna. Lo celebriamo col nostro assessorato alle pari opportunità, con due eventi che veramente mettono bene in luce quello che è l'aspetto direi anche importante di questa festa delle donne. Da una parte un evento con le imprese, da una parte con l'evento tutto diretto a mettere in luce la capacità dell'imprenditoria femminile e dall'altro la sera un evento più intimo, più raccolto su quello che è stata una epopea, un momento veramente difficile per le donne e per la cultura siciliana in particolare. Donna che impresa è un titolo abbastanza provocatorio ma soprattutto che vuole stimolare anche le persone a riflettere proprio sul campo dell'imprenditoria femminile che è il tema che tratteremo domani alla presenza di moltissime persone e di interventi di tutto rilievo, di tutto spessore. La sera concluderemo invece la nostra giornata con uno spettacolo che verrà l'attrice Lucia Sardo. Noi siamo onorati e davvero contenti di questa presenza e insieme porteremo nello spettacolo la nave delle spose. Quindi tratteremo delle tematiche importanti, quali sono quelle delle donne nel mondo dell'imprenditoria, nel viaggio che hanno fatto durante la storia per l'emancipazione e per l'eguaglianza, per la parità dei diritti. Ecco che quindi riuniamo i diversi assessorati che sono quello all'istruzione, alla cultura, alle pari opportunità ed anche alle attività produttive per fare capire che tutto fa sintesi se l'obiettivo è comune ed è quello della parità di genere.